Benvenuti in questo nuovo video, io sono Maullo e oggi siamo su un nuovo tipo di video, ovvero inauguriamo i vlog Allora prima di iniziare questo vlog io vi ricordo di lasciare commenti e like se vi piace questa tipologia di video Di iscrivervi al canale se vi fa piacere e di seguirmi su Instagram dove ogni tanto pubblico qualche cretinata Allora ragazzoni, che dirvi? Niente, diciamo che volevo un attimo chiacchierare con voi, infatti mi sono preparato un bel caffettino Mi sono preparato le fette biscottate, ovviamente questo video non lo sto facendo adesso che sono le 10 e mezza passate Cioè l'ho registrato un poco prima, perché voglio dire un caffè, fare colazione alle 10 e mezza, cioè non sono il tipo che fa queste cose Niente, siccome nel mio canale ogni volta escono giochi in cui sclero, impazzesco, quello e quell'altro Ho detto, va facciamo un altro tipo di video in cui parliamo con i ragazzi, perché comunque siamo arrivati a 1100 iscritti Quindi è anche giusto conoscerci un pochino meglio Cosa voglio fare in questo video? Niente, in questo video raga, intanto voglio semplicemente parlare un po' con voi Parlate di che cosa? Non so, avete sentito la notizia per esempio di ieri della nave da crociera Che è andata a sbattere su quell'altra barchetta, praticamente è assurdo Cioè uno dice, mi prendo una nave da crociera, cioè stanno succedendo un sacco di cose con la nave da crociera È assurdo praticamente, cioè io ho visto il video appunto su YouTube e si è mangiato, a parte una fiancata alla nave da crociera Ma poi anche il battellino piccolo è andata a sbattere una manina paurosa E si è trottato anche un pezzo di muretto, diciamo di molo, cioè è una cosa impressionante Cioè uno dice, che poi c'è un video che ho visto io, che proprio è fatto da una persona, proprio sulla banchina E si vede proprio questa nave da crociera che arriva enorme Sembra, vi ricordate il film Speed 2, in cui c'è la nave da crociera che entra proprio nel villaggio e lo distrugge passandoci di sopra Cioè è una cosa impressionante Quindi non so, commentatemi voi, ma io sinceramente ora come ora sto perdendo un attimo di fiducia sulle navi da crociera Quindi uno dice, la nave da crociera, l'aereo, ma è meglio mi sto a casa a questo punto, signore È meglio mi sto a casa, perché è la migliore cosa Un caffè per tutti voi ragazzi Un caffè no, un sorsetto di caffè male, è meglio L'altro sorsetto me lo bevo dopo Dopo che cosa? L'altra notizia che volevo commentare con voi è la vittoria per esempio del Liverpool Lasciamo fuori tutti i discorsi vari di politica e cose varie e cagate varie perché non c'ho voglia di parlarne Però una cosa su cui possiamo parlare è il di calcio, ovvero del Liverpool Del Liverpool che ha vinto la Champions E devo dire che per quanto mi guarda sono molto contento Perché comunque, come ho detto in molti, come ho commentato in molti video appunto su Youtube L'anno scorso il Liverpool era anche arrivato in finale e l'aveva perso un po' in maniera brutta Con delle papre del portiere assurde Cioè era quasi una cosa abbastanza brutta Invece sono molto contento che quest'anno il Liverpool è riuscito a portarsi a casa la Champions Certo, dispiace per il Tottenham che aveva fatto con tanta fatica e era arrivato lì Ma sempre questo allora dispiace anche per l'Ajax che aveva fatto una grande impresa arrivando in semifinale Però voglio dire, qualcuno da là doveva vincere e per quanto mi ricorda sono contento che l'ha vinta il Liverpool Un'ultima cosa ragazzuoli Niente, ah, una cosa che non ho notato ieri Il video di The Sims non è andato benissimo Quindi domenica non so se uscirà nuovamente un video di The Sims Perché per quanto vi piace dallo stesso tempo noto che non piace a tutti Quindi valuterò se continuare oppure no Ragazzuoli, detto questo io chiedo a voi tanti commenti e tante domande Se me ne potete fare, ovviamente non sul personale Datemi argomenti con cui parlare con voi E niente, detto questo ci vediamo domani con un prossimo video Bella raga Ciao Ah, il caffè Un caffè per tutti Tutti per uno, uno per tutti Caffè Ciao ragazzi Ciao Grazie.